Salve da Acropalati da Michele Expert, oggi non ho tempo, io in questo periodo veramente ho poco tempo per tante cose che devo fare, sto anche completando l'ultimo libro e poi ovviamente bisogna mangiare di meno in vista anche del mezzavostico. Sto valutando dove andare, c'era un programma, l'ho cambiato, forse lo cambierò ancora, perché ho anche dei gattini da tenere, quindi non posso spostarmi più di una giornata. Ecco, vedete questo panino o paninazzo fatto ieri, ho farcito praticamente con pomodorini ciliegino, datterini, ho messo sotto la nostra asciuncata, si vede poco, un formaggio, una via di mezzo tra la ricotta e una mozzarella, non so esattamente, veramente molto molto buono, pomodorini, poi ho messo anche dell'origano, basilico, un goccetto di aceto di mele, olio extravergine d'oliva, un po' di sale, delle scagliette di grana padano, ecco quel paninazzo, ecco, adesso mettiamo il coperchio così, lo facciamo farcire un po', lo tagliamo in due, con una bella birretta fresca e ho mangiato, dico, c'è mica bisogno di fare che sa che, insomma, l'estate si può ovviamente ovviare, visto il caldo che c'è fuori, che è micidiale, facendo una cosa veloce, tanto poi più tardi un po' di anguria, stasera assaggerò un melone, un melone che mi è stato dato da un signore, dalle macchie delle coserie, voglio assaggiare per vedere come vengono in quelle zone, ovviamente metterò anche un po' di prosciutto oppure di colatello, vediamo un po'. Ok, caldo fuori, veramente non si può stare, io, purtroppo sono di questa stanza giusta, il resto è esposta, quindi sono chiuso in una stanza, si potrebbe dire, e qua sto passando il tempo, perché tra andare un po' fuori per i gattivi, andare anche a pulire l'appartamento, ma si deve fare di mattina presto, perché dopo è veramente impossibile, neanche addirittura uscire fuori un secondo, una cosa veramente boh, dobbiamo resistere, ma veramente siamo in prigione ed è caldo, veramente così.